Grazie al lavoro dell'assessore Giannini e delle ferrovie del Gargano abbiamo oggi questo collegamento diretto tra il Gargano e la stazione di Bari. Questo aiuterà moltissimo il turismo ma soprattutto la vita quotidiana, ne migliorerà la qualità e consentirà di abbreviare i tempi di percorrenza superando alcuni dei problemi che i residenti nell'area del Gargano da tanto tempo ci presentavano. Ovviamente si può fare ancora meglio, studieremo il modo per migliorare ancora questi collegamenti. Il mio sogno è quello di collegare direttamente sia l'aeroporto di Foggia che l'aeroporto di Bari con il Gargano ed è ovviamente il progetto al quale stiamo lavorando, sempre affidato al più esperto dei miei assessori che è l'assessore Giannini che ha svolto un lavoro fantastico in tutti questi anni. Quindi diciamo che sono venuto qui con un altro treno da Roma, noi utilizziamo molto il treno per lavorare, speriamo che lo facciano tutti, ma sono venuto qui soprattutto per ringraziare lui per questo lavoro silenzioso, non avete sentito quasi mai parlare di lui, quindi mi pareva giusto ringraziare anche, devo dire, una delle ferrovie concesse, le ferrovie del Gargano, che alla stessa maniera è stata in questi anni, che sono tanti, sempre efficiente, trasparente, onesta, quindi sono tutte cose che hanno peso e quindi potrà sembrare strano che io sia arrivato da Roma apposta per questo primo viaggio, ma tutte le persone che sono qui devono essere ringraziate da tutti i pugliesi e io lo sto facendo a loro nome.